buongiorno a tutti io sono shark questo è l'angolo dedicato a destiny 2 un sacco di novità dal gamescom sono arrivate e iniziamo subito con il nuovo sito della bungee bungee ha buttato fuori il nuovo sito internet e la nuova app aggiornandola chiaramente sul sito si possono tranquillamente trovare subito la prima cosa che si nota una nuova sezione del clan tutta completamente rifatta io vi farò vedere il mio nella sezione del clan si possono trovare veramente la chat principale con le vari canali opzionali che si possono creare io li ho creati e si possono aggiungere quindi pve pvp raid admin io ne ho creati 4 ma si possono aggiungere anche squadra per squadra in base a quante persone si hanno ci sono il profilo del clan in cui si può inserire tutta la descrizione del clan il nome la tag il punteggio del giuramento le varie approvazioni se sono su richiesta su invito eccetera eccetera i membri la creazione del clan le varie stagioni che si seguiranno su destiny 2 e ovviamente il livello del clan che in questo caso è 0 noi siamo su pc e quindi inizieremo solo il 28 e in più si può modificare il banner per l'approvazione invece dei membri bisogna andare sotto impostazioni e ci saranno direttamente le approvazioni dei membri che si può fare dalle impostazioni si possono creare inviti o revocare inviti bannare le persone modificare lo standard o fare le varie impostazioni varie eventuali sulla destra invece si possono trovare in questo caso tutti i nick dei propri giocatori comprensivi se sono blizzard xbox o ps4 se per caso c'è un clan che abbraccia tutte tra le console questo comunque è la parte del clan ci sono ci saranno anche si può trovare anche la sezione della community sul sito nuova quindi con il forum varie d'eventuale il trova squadra se per caso qualcuno vuole fare reclutamenti l'assistenza e la home page ovviamente principale in cui c'è il settimanale questa è la novità principale questo sito intero è stato messo anche sull'applicazione di destiny non ancora tutte le funzionalità dell'applicazione ci sono ma comunque la maggior parte sono già tutte operative andiamo a vedere comunque che novità ci sono è uscite sono usciti un po di video il primo il principale è sicuramente la dead zone europea che ci ha mostrato sia la mappa nuova quindi come si interagisce con la mappa nuova sia anche una nuova modalità nonché ha introdotto un personaggio che in realtà poi si scoprirà essere si è scoperto essere uno dei vendor uno dei nuovi vendor in cui bisognerà scambiare o gli oggetti o comunque il loot quindi come il metallo trovato in giro per la mappa per prendere dei gear che ci interessano ovviamente i gear ci vengono dati in base al nostro livello l'altro personaggio che è uscito è ovviamente outorna che è quest'altro personaggio che in realtà è anche lei un vendor si può definire così che scopriremo probabilmente all'uscita del gioco perché ancora definitivamente che cosa faccia outorne che ruolo abbia all'interno del gioco io sinceramente non l'ho ancora capito se qualcuno che sta guardando questo video lo sa per favore lo lasci in descrizione me lo dica perché sono veramente curioso io sinceramente ancora non l'ho ben capito beta del pc altra novità poi andiamo a parlare comunque andiamo a vedere un po la mappa nuova nei vari video di gn beta per pc in arrivo oggi si poteva attivare la chiave alle 19 di stasera si potrà pre downloadare il gioco che uscirà il 28 per chi ha la chiave della beta key se per caso qualcuno vuole comprare la chiave perché magari vuole iniziare il 28 e non il 29 vi lascio il link in descrizione di kinguin dove poterla comprare è uscita inoltre anche la foto della dei tasti della tastiera e del mouse per poter giocare a destiny sono veramente semplici sono veramente pochi e in più due o tre tasti normalmente si passano sul mouse avendo comunque tutti noi pc gamer dei mouse con più di due tasti classici quindi l'uad per muoversi r per ricaricare q ed granata e interazione 123 per ovviamente cambiare le varie armi f1 per il menu del personaggio mentre per lo scattolo accovacciarsi il salto e le varie abilità come contrassegno superabilità mossa in aria corpo a corpo probabilmente quelle andranno bindate invece io sicuramente cambierò completamente tutti questi tasti per rendermeli al meglio sia sulla mia tastiera che sul mouse adesso comunque andiamo a vedere un po di filmato della dead zone europea eccoci il video ovviamente è di ign oramai si sa che sono loro che fanno questi bellissimi video si vedono quattro lost sector scoperti da scoperti ovviamente giocati dai ragazzi di ign e si vedono anche un po l'interazione che si ha con la mappa mappa nuova modalità della mappa in pratica sulla mappa si possono trovare tutte le le cose che si possono fare che voi le abbiate scoperte o meno sono comunque segnalate come per esempio i forzieri i lost sector o per esempio la nuova modalità ad obiettivi in questo caso loro stanno facendo un lost sector e hanno appena finito il lost sector trovando chiaramente il loot che viene rilevato qua a destra adesso dovrebbe comparire la mappa nel filmato ecco la mappa come vedete come vedete qua sulla mappa potete trovare sia le varie modalità quindi torniamo un pochino indietro sia le varie modalità che si possono fare ad obiettivo che per esempio questo lost sector queste invece sono casse di loot vi vengono segnalate sulla mappa ma sono solo la zona in cui si possono trovare chiaramente sono tutte da scoprire questi non sono altro che i teletrasporti quindi sulla mappa ci si può teletrasportare in vari punti ovviamente scoperti dai giocatori o dai propri compagni e di conseguenza si hanno sia la possibilità di interagire con la mappa per poterla diciamo completare al cento per cento questo lost sector o comunque questa nuova dead zone di europa ha svelato anche un nuovo personaggio che ho detto prima che è poi alla fin della fiera non è altro che un vendor a cui si potranno dare determinati oggetti trovati in giro per la mappa durante l'esplorazione della mappa in cambio di ovviamente di gear del vostro livello devo dire che da apc gamer questa comunque non sono novità se non che normalmente nei giochi mmo su pc queste cose si hanno ok quindi l'interazione con la mappa è abbastanza pratica si vede galdos 2 come si può vedere in world of warcraft e di conseguenza questa novità in realtà è una pseudo novità per noi su pc l'altro personaggio che in realtà si è scoperto è utorna che tra poco andrò a vedere nel frattempo vi faccio vedere un po di lost sector scoperti da ign mi piacciono particolarmente veramente bella la pur essendo giocato su ps4 comunque la grafica non è niente male l'ambientazione è veramente veramente bella cambiano completamente da un lost sector all'altro io ovviamente il filmato l'ho già visto ma vi voglio soltanto mostrare un po come sarà quello che andremo a giocare vi comunque vi linko anche questo filmato in descrizione se lo volete vedere ed è tutto e adesso andiamo un po a vedere il nuovo personaggio houtorn mi chiamo houtorn e questo è il nostro miglior pilota ok andiamo noi sopravviviamo senza luce da sempre e si dà il caso che siamo anche molto bravi a ammirare e cura di non essere una dei miei i mantelli non sono nel mio stile capito bel puncio questa era houtorn la nuovo personaggio rilasciato da bungee con questo il video lo concludo perché sinceramente non ho notizie certe su houtorn ci sono un po di leak varie ed eventuali che la definiscono un vendor c'è chi non la definisce un vendor sinceramente finché non ho qualcosa in mano di vero non vi do notizie sbagliate non ho voglia di fare video con notizie sbagliate con questo è tutto comunque ci vediamo il 28 in live se non vi siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi qui sotto per il resto ci si vede online guardiani ciao a tutti iscrivetevi qui sotto